Io vorrei che arrivasse un messaggio di speranza, perché ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno per le nostre famiglie e per le fatiche che affrontano, ne abbiamo bisogno per la nostra società che deve avere e sperimentare capacità di sguardo in avanti, stimoli e risorse positive da condividere. Ne ha bisogno il nostro mondo, soprattutto per le situazioni di guerra che ormai purtroppo ben conosciamo. È un messaggio che mette al centro la speranza, quello che il Vescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro destina appunto alla diocesi Aretina. Il Natale vuole essere motivo di speranza non perché come poesia, come sguardo romantico vogliamo dire che le cose vanno bene, ma perché c'è una speranza che viene dal farsi vicino di Dio, dal portare la sua presenza e il suo amore. Lui ci regala l'amore che è il Natale e quella diventa la strada per portare speranza nel mondo. Lei adesso conosce un po' di più la comunità Aretina rispetto ovviamente all'anno precedente, era appena arrivato. Sono stati lanciati più appelli da più parti per le nuove povertà, insomma cosa si sente di dire per questo? Noi come Chiesa, soprattutto attraverso la Caritas, ci stiamo muovendo per dare anche risposte nuove a queste povertà che si presentano, che sono nella quotidianità, talvolta nella realtà normale delle famiglie. E quindi vuol dire attivare vicinanza, ascolto, sportelli di ascolto, capacità e realtà di accompagnamento e di risposta anche ai bisogni primari, tante volte che richiedono riservatezza ma pronta risposta. Lei ha fatto anche alcune nuove nomine e mi verrebbe da chiederle dal punto di vista della vocazione. Insomma, ovviamente la Chiesa è un punto di riferimento, voi siete delle guide spirituali per ogni comunità, più grande o più piccola. Quanto aggrega questa Chiesa? Aggrega quanto lei vorrebbe o potremmo fare di meglio? Il meglio si può sempre fare e quindi credo che noi come diocesi, le comunità, le parrocchie, i gruppi, devono sentirsi sempre incoraggiati e sostenuti nell'essere capaci di annunciare, non per fare proselitismo, come dice il Papa appunto, ma perché abbiamo qualcosa di bello da condividere. E allora verso tutti, soprattutto verso i giovani e anche nel campo dell'educazione, credo che dobbiamo vivere un impegno sempre maggiore che sia di prossimità, cioè di presenza lì dove le realtà di vita ci sono.